Entra! Hai andato a fare la spia al professore! È questo che ha fatto! Io non ho mai rubato in vita mia! Facciamolo a pezzettini, dai! Io non ho detto niente! Tu è che? Vuoi fregarmi? Non gli fate troppo male, però. Perché? Ti preoccupi? Di che cosa hai paura? Non gli farò niente. Ehi, ne vuoi anche tu, stronzo? Che cos'hai che non va? Sei stanco di campare? Pezzo di merda pelato bianco. Ti dice bene che devo andare in classe. Non lo racconterà se non vuole che gli presenti la mia pistola. Se non suonava la campana, ci divertivamo con quel bianco. Mi piacerebbe rincontrarlo. L'ho fotografato, non scappa. Devi imparare a difenderti da solo.